Grazie a voi di aver cantato e pregato insieme questa bellissima preghiera Tu sei madre con la quale ci stiamo avvicinando molto rapidamente al finale di questo Jubil Music 2010. Abbiamo anche questa sera sperimentato, vissuto, come si possa comunicare che Gesù è la vera gioia e lo abbiamo fatto in diversi modi, con diversi ritmi, con linguaggi diversi. Tutto questo nella convinzione che comunicare il messaggio del Vangelo con i molteplici mezzi di oggi sia una priorità a cui Jubil Music continuerà certamente a dare evidenza e su cui sollecitare impegno e soprattutto adesione. È stata un'edizione che ha visto davvero tanti artisti provenienti da molte nazioni del mondo, ma poi anche tanta gente che proviene da 20 diocesi italiane e c'è persino una rappresentanza della Polonia. Vabbè allora siamo ultra internazionali e a proposito di artisti internazionali adesso li invitiamo sul palco con noi per condividere insieme questo momento di gran finale di Jubil Music 2010. Adesso gli artisti arriveranno qui con noi per poter festeggiare insieme. Intanto mentre ci raggiungono sul palco per la passione e per l'amore che davvero nutre verso Jubil Music e che mette a servizio della chiesa italiana Allora accogliamo sul palco qui con noi il Vescovo di Ventimiglia a Sanremo, Sua Eccellenza Monsignor Alberto Maria Careggio. Eccoci qua da questa parte, eccellenza. E continuiamo l'applauso per accogliere sul palco il Presidente di Jubil Music, Don Alessandro Gersi, Marco Brusati autore e direttore di Jubil Music e poi invitiamo con noi l'assessore al turismo del comune di Sanremo Giuseppe Di Meco e l'assessore regionale sport e tempo libero Gabriele Cascino che ringraziamo di essere qui con noi in questa serata di festa. Eccoci qua, mentre sale l'assessore, eccellenza. Eccellenza, un saluto è doveroso. Più che doveroso è piacevole e commovente perché fino a due ore fa pensavo che la gioia fosse come quella parola la libertà che ti accorgi che è importante quando l'hai perduta. E invece devo proprio ricredermi perché gioia con tutti questi ragazzi che abbiamo, con tutti questi artisti che si sono così esibiti con convinzione, non per spettacolo su questo palco così prestigioso come quello dell'Ariston, devo credere veramente, perché ho toccato con mano, ho sperimentato che la gioia c'è. Quindi se noi ci lamentiamo, se diciamo che tutto va male, probabilmente c'è qualcosa dentro di noi che va male. Abbiamo bisogno di fare quello spazio, dare spazio alla gioia che questi ragazzi questa sera ci hanno cantato, che Jubil Music ci ha portato in città e non solo, ma in tutta Italia, vorrei dire in tutto il mondo. E' stato uno spettacolo per me questa sera straordinario, quindi grazie e questo sia il mio saluto. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie eccellenza. Grazie eccellenza, poi un'accoglienza straordinaria riservata a noi tutti. Ma vorremmo anche un saluto dal Presidente che si spende tutto l'anno, Don Alessandro. È arrivato il momento di raccogliere tutte le fatiche di quest'anno e anche i successi di Jubil Music. Don Alessandro Gersi, Presidente di Jubil Music. Indubbiamente, grazie a tutti. Grazie a tutti voi della vostra presenza e del vostro calore. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato, gli artisti, i giovani, i testimoni, gli ospiti, perché tutti sono venuti a raccontarci qualcosa di sé, a raccontarci la loro gioia, a testimoniarla, a viverla, ad annunciarla a noi e a invitarci a fare altrettanto. Grazie Don Alessandro Gersi. Allora, il nostro ringraziamento va anche alle istituzioni che ci accompagnano in questi anni. E il saluto del Comune di Saremo ce l'ha portato l'assessore al turismo, Giuseppe Di Mecco, che vorrei salutarsi anche lui i suoi concittadini. Sì, grazie a tutti e buonasera a tutti. Ma io devo dire che Jubil Music si riconferma un grandissimo evento per la nostra città, un evento importante di carattere musicale sì, ma non solo. Io credo che anche gli appuntamenti che ci sono stati in questi giorni hanno fatto capire quanto sia importante parlare con i giovani e come i giovani poi rispondono anche su temi importanti. Abbiamo sentito della musica internazionale di altissimo livello che non solo piace ma fa anche riflettere. Per cui io vi ringrazio veramente di cuore anche per la gioia che avete portato in città. Si è vista. Grazie a voi di averci accolti. E in rappresentanza della Regione ringraziamo di essere con noi l'assessore regionale Gabriele Cascino. Sì, anch'io porto i saluti del Presidente Burlando di tutta la Regione, mi complimento con gli organizzatori, faccio i complimenti ai cantanti, a tutti i ragazzi, insomma un saluto e grazie di essere venuti nella nostra terra, nella Liguria, e portate a casa vostra i nostri saluti e la gioia vi accompagni sempre. Vogliamo anche ringraziare ufficialmente il Comune di Sanremo per il grande sostegno e il Sindaco di Sanremo, il Dottor Maurizio Zoccarato, che stasera non è qui con noi ma che ci ha mandato i saluti. Ci siamo, eh? Direttore Brusati non vuole mai parlare ma alla fine almeno una parola ce la dirai. Il direttore artistico dell'evento, Marco Brusati! La prima parola è grazie. Tantissimi, tantissimi giovani su questo palco, vi assicuro che non è semplice, però con loro tutto è stato facile, perché sono giovani come non ce li descrivono i giornali, le televisioni, questi sono i giovani veri. Grazie agli artisti che questa sera sono stati straordinari, testimoni della gioia piena. Io vi voglio salutare così.